Dal mercatino tirolese in Piazza Grande alla casa di Babbo Natale nel Palazzo di Fraternita, dal Frozen Village in Piazza Sant'Agostino al Jumping in Piazza Guido Monaco. Torna dal 3 al 26 dicembre a Rezzo, città del Natale, la manifestazione che porterà l'atmosfera natalizia in tutti e quattro gli angoli della città. Abbiamo un po' migliorato alcune piazze, quindi fatto dei piccoli interventi che però sono comunque importanti e poi abbiamo lavorato tantissimo sulla parte alta, che l'anno scorso funzionò molto bene con le fontane danzanti, che diventerà a tutti gli effetti il Prato un grande teatro dove nei fini di settimana e nei giorni di festa ci saranno tutta una serie di spettacoli di altissimo livello, alcuni di artisti locali e addirittura di artisti internazionali. Ce ne sarà un po' per tutti, quindi abbiamo cercato di colpire un po' tutti i target, quindi dai giovani alle famiglie fino a comunque le persone anche un pochino più adulti. Dopo abbiamo lavorato molto anche su tutta la parte di Prato e Fortezza, che quindi la illumineremo sia a livello di luci e spettacoli, sia a livello proprio la fortezza di una vera e propria casa per i bambini. E quindi diciamo che a differenza di anno scorso abbiamo aggiunto numerosi eventi e aggiunto alcune location in più per far diventare la città del Natale ancora più bella. Quali saranno le location nelle quali si strutturerà la città del Natale? Quindi sono quelle di anno scorso, quindi nella parte bassa si parte da Piazza Guido Monaco, Sant'Agostino, San Jacopo, Risorgimento, fino a Salire, quindi Piazza Grande, dove ci sarà comunque il mercatino tirolese, Piazza della Badia e poi molto si concentrerà quest'anno su Prato, Bosco e Fortezza. Questo può diventare una delle capitali del Natale? Ci speriamo, già comunque l'onda lunga dello scorso anno ha fatto sì che sono mesi che abbiamo comunque continue richieste da piccoli tour per etero, gruppi di persone che vogliono venire. Quindi diciamo che già l'inizio è positivo, sicuramente quest'anno dobbiamo confermare e migliorare.